Ciao a tutti, benvenuti a questo nostro ultimo incontro prima delle vacanze d'inverno. Grazie Alice, bentornata, un piacere averti di nuovo qui, che così gentilmente ci assisti durante questo nostro evento. Allora, come sapete, leggiamo oggi il canto 14esimo del Purgatorio. Siamo, se ricordate, sulla seconda tornice, quella dove i penitenti dell'invidia si stanno purgando. Leggiamo, come il nostro solito, il canto tutto da capo, poi riprendiamo a spiegare, facciamo una pausa durante la quale vi prego di inviarmi se ne avete i vostri dubbi sulla chat, poi cerco di rispondere. Finiamo di spiegare il canto e leggiamo tutto di seguito alla fine. Chi è costui che il nostro mondo cerchia prima che il morte gli abbia dato il volo e atti gli occhi a sua voglia e poverchia? Non so chi sia, ma so che io ne sono. Domanda il tuo che più li fa vicini e dolcemente si che parli a collo. Così due spiriti l'uno all'altro pini ragionavano di me, Ivia Mandritta, poi farli visi per dirmi, supini, e disse l'uno O anima che fitta nel corpo ancora in verlo cel ten vai, per carità ne consule ne ditta, onde viene chi sé che tu ne fai tanto maravigliar della tua grazia quanto qualcosa che non fu più mai. E io per mezzo a Toscana si spazio un fiumicel che nasce in Palterona e centomiglia di corso non sazia. Di sovresso orecchio questa persona. Dirvi chi sia sarei a parlare in d'Arno, il nome mio ancora molto non suona. Sebbe l'intendimento tuo a carna con l'intelletto, allora mi rispose quei che diceva prima, tu parli d'Arno. E l'altro disse lui, perché nascose questo il vocabolo di quella riviera pur come non fa delle orribili cose? E l'ombra che di ciò domandata era si sdevitò così, non so, ma degno bene che il nome di tal valle è vera. Che dal principio suo, dove si pregnerà il pestamonte, onde tronco per loro, che in pochi luoghi passa oltre quel segno, in che in lave si rende per l'istoro, e quel che il cielo della marina asciuga, onde hanno i fiumi ciò che va con loro, vertù così per nemica si fuga da tutti come biscia, o per sventura del luogo o per maluso che li fruga. Ondanno si mutata l'ornatura gli abitatori della misera valle, che par che Circe li avesse in pastura. Tra brutti torci, più degni di galle che d'altro cibo, patto in un manuso, drizza prima il suo povero calle. Voto li trova poi, venendo giù un sorrindiosi, più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa torci in uso. Va secaggendo, e quant'ella è più grossa, tanto più trova di camparsi lupi la maledetta e sventurata fossa. Discesa poi per più pela di punti, trova le volpi si piene di froda, che non temono ingegno che li occupi. Ne lascerò di dir perché altri modi, e buon sarà costosa, un corso a menta, di ciò che vero spirito mi disnota. Io vedo tua nepote, che diventa cacciatore di quei lupi sulla riva del fiero fiume, e tutti li sgomenta. Vende la carne loro essendo viva. Poscia li ancide come antica velva, molti di vita e se di pregio printa. Sanguinoso esce della trista selva, lasciala tal che di qui a mille anni, nello stato primaio non si insegna. Come all'annunzio di dubbiosi danni, si turba il viso di colui che ascolta, da qualche parte in periglio la sanne, così vidio l'altra anima, che volta stava a udir, turbarsi e farsi trista, poiché bella parola si raccolta. L'udir dell'una e dell'altra la vista, mi fer voglioso di saper loro nomi, e dimandane fei con i miei ghimista. Perché lo spirito che di prima parlò mi ricominciò. Tu vuoi che io mi deduca nel fare a te ciò che tu far non vuoi. Ma da che Dio in te vuol che tra Luca tanto sua grazia non ti sarò scarso, farò satti che io fu un punduto del duca. Fu il sangue mio di invidia si riazzo, che se veduto avesse uom farsi lieto, visto ma avresti di ligure sparso. Di mia semente pota al paglia lieto. O gente umana, perché pone il cuore la ve mestier di consorte di lieto? Questi eri miei, questi è il prego e l'onore della casa da calvoli, ove nullo fatto sareda poi del suo valore, e non pur lo suo sangue fatto brullo tra il poimonte e la marina in treno, del ben richiesto al vero e al trascullo, che dentro a questi termini eri pieno di venenosi sterti, sicché tardi per coltivare o mai perre per meno. Ove è il buon Luzio e Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e Guido di Carpigna, o Romagnoli tornati in Bastardi, quando in Bologna un fabbro si ralligna, quando in Faenzo un Bernardin di Fosco, verga gentil di Piccio la Gramigna, non ti maravigliarsi o pianto, tosco, quando rimembro con Guido da Prata uvo l'indazzo che rivete nosco, Federico dignoso e sua brigata, la casa attraversare e gli anastaggi e l'una gente e l'altra è divietata, le donne e i cavalieri e gli affanni e gli agi che non vogliava amore e profisia là dove i cuor sono fatti sì malvagi. Pobre Pinoro, che non fuggi via poiché Gita se nella tua famiglia e molta gente per non esser ria, ben fa bagna cavall che non rifiglia e mal fa castrogare, peggio toni che rifigliare ai punti più si impiglia, ben faranno i pagani da che il demonio lor s'ingirà ma non farò che puro già mai rimagna ad essi testimoni. O golin dei fantolini sicuro è il nome tuo da che più non si aspetta chi farlo possa tra gli angli oscuro ma va via tosco mai più or mi diletta troppo di piangere più che di parlare sì ma mostra ragion la mente stretta. Noi sapevamo che quell'anime care ci sentivano andare però tacendo face a noi del cammino confidare col fumo fatti soli procedendo folgo riparve quando l'aere fende voce che giunse di contra dicendo anciderammi qualunque mappende e fuggì come ton che si dilegua se subito la nuvola scusceglie come da lei lui dir nostro ebbe riegua ed ecco l'altra con si gran fracasso che somigliò tonar che tosco segua io sono aglauro che divenni sasso e allora per restringermi al poeta indesso peci e non innanzi ripasso già era Laura ad ogni parte poeta ed mi disse quel fu un duro camo che potria l'uomo tener dentro la sua sua meta ma voi prendete l'esca sì che l'amo dell'antico avversario a sé vi tira e però poco va il freno o richiamo chiamavi il cielo intorno vi si gira mostrandovi le sue bellezze etterne e l'occhio vostro pura terra mira onde vi batte chi tutto viscerne allora vi ricordate che i penitenti di invidia sono tutti seduti per terra in questa pietra livida che caratterizza appunto l'invidia anche attraverso questa parola che pure oggi associamo all'invidia e sono tutti appoggiati l'uno sull'altro e appoggiati tutti sulla parete del congatorio e hanno gli occhi cuciti col film di ferro per cui non possono vedere Dante Virgilio Dante ha già parlato vi ricordate con Sapia questa donna che sta purgando un'invidia davvero orrenda che praticò fino alla fine dei suoi giorni e quindi gli altri che sono lì vicini chiaramente l'hanno sentito ma non lo possono vedere quindi il canto si apre con una tecnica davvero teatrale cioè con un dialogo senza un verbo che lo introduce quindi sentiamo direttamente queste voci come li sente il Dante Pellegrino e che parlano di lui chi è costolto il nostro monte cerchia prima che morte gli abbia dato un volo e apre gli occhi a sua voglia e poverchia cioè chi è questo che sta facendo il giro del nostro monte prima che la morte l'abbia liberato dal corpo e apre e chiude coverchia gli occhi a sua voglia è interessante questo attacco di canto vero perché queste anime che non sono ancora del tutto pulite manifestano almeno parzialmente la colpa di cui devono ancora apporgarsi e infatti questo atteggiamento di parlare di un altro in terza persona invece di rivolgersi direttamente a lui il fatto di aver notato in Dante non solo il fatto che è ancora vivo ma che a differenza di loro e meglio di loro può aprire e chiudere gli occhi secondo la propria volontà è stato visto tradizionalmente dalla critica come un segno di invidia ancora non del tutto guarita e infatti l'altro gli risponde non so chi sia ma so che non è solo perché Dante vi ricordate aveva detto a Sabia che Virgilio non stava accompagnando non aveva detto il nome di Virgilio ma aveva detto che era guidato domanda al tu che più gli avvicini e dolcemente sì che parli a collo anche questo è una diciamo è un una osservazione psicologica interessante no perché prima la primissima indicazione tu che sei più vicino parlagli tu ma parlagli dolcemente così così lo facciamo parlare come se fossero complici nei confronti di Dante perché chiaramente la dolcezza o almeno la cortesia sarebbe voluta verso il prossimo sempre non solo con un obiettivo insomma pragmatico come questo però evidentemente a queste anime manca ancora un bel po' per liberarsi dal peccato e quindi solo ora il verso settimo prende la parola il Dante narratore così due spiriti l'un all'altro chini ragionavano di me via mandritta quindi così due spiriti chinati l'uno verso l'altro parlavano di me alla mia destra poi ferri i visi per dirmi i subini poi alzarono i visi verso l'alto subini per rivolgersi a me come Dante ce l'ha già detto più volte nel canto precedente attraverso delle similitudini fanno i ciechi quando si rivolgono a qualcuno per chiedere lemosina e allora uno finalmente dopo aver parlato di Dante come se lui non fosse lì presente si rivolge a Dante verso 10 e disse l'uno o anima che fitta nel corpo ancora in verlo celten vai per carità ne consule ne ditta onde vieni e chi sei che tu ne fai tanto maravigliare della tua grazia quanto qualcosa che non fu più mai cioè quest'anima che era stata indotta dall'altro a rivolgersi dolcemente a Dante fa un vocativo molto gentile anima che ancora ancorata al corpo te ne vai verso il cielo per carità dacci consolazione e dici da dove vieni e chi sei già che tu ci fai così sorprendere anzi maravigliare abbiamo detto che volte che questo verbo maravigliare in italiano moderno maravigliare ha la stessa radice miracolo di miraviglia e quindi è un verbo di cui si serve Dante per la sorpresa non sempre positiva ma che è motivata da qualcosa di trascendente di miracoloso come queste anime hanno subito capito che è la condizione straordinaria di Dante allora la tua condizione il fatto che tu stia facendo la salita del monte ancora avendo il corpo ci fa tanto meravigliare della grazia straordinaria che ti assiste quanto richiede qualcosa che non fu mai prima come effettivamente è l'enorme novità del viaggio che sta facendo Dante che come sapete fin dall'inizio del libro nel secondo canto dell'inferno quando Dante vive la sua prima crisi di viaggiatore aveva detto a Virgilio che lui non era né Enea né Paolo e che quindi non si riteneva degno di accettare la sua proposta del viaggio all'aldilà ma se pensiamo sia a Enea che a Paolo che effettivamente come vedremo l'anno prossimo durante la lettura del paradiso Dante a un certo punto capisce che in qualche modo lui è come Enea e come Paolo certo Enea discese nell'averno pagano che è tutto sottoterra vero? Quindi vede anche i buoni nei campi Elisei ma la sua è sempre una catabasi come è stata appunto la discesa di Dante nell'inferno e il caso di Paolo come sapete è quello di essersi elevato al terzo cielo quindi il volo in paradiso ma effettivamente il viaggio impurgatorio Dante il primo in assoluto a farlo essendo ancora nella prima vita e quindi queste anime sono sorpresissime della sua presenza lì e Dante al verso 16 comincia a rispondere in un modo davvero strano che ha sempre causato perplessità presso i lettori perché spesso lui si presenta a volte per nome a volte spiega la sua condizione di peccatore che è stato riscattato da Virgilio nella selva a volte dice da dove viene da Firenze ma in questo caso è particolarmente elusivo il suo parlare perché non nomina nemmeno l'Arno inizia a nominarlo per riferirsi appunto alla sua condizione di Toscano ma non ne dice il nome allora al verso 16 inizia Dante con questo modo del tutto insolito e io per mezzo a Toscana si spazia un fiumicello che nasce in Falteruna e cento miglia di corso non sazia cioè per mezzo della Toscana si apre spazio e chiaramente si sta riferendo all'Arno come sapremo al verso 24 ma lo chiama fiumicello essendo in realtà l'Arno un fiume e quindi evidente a questa altezza del viaggio di Dante che ha lasciato dietro di sé la superbia che infatti è il solo P della sua fronte che è stato già cancellato dall'angelo e quindi si riferisce all'Arno come un fiumicello che nasce negli appennini toscano-emiliani in Falteruna e che non gli bastano cento miglia di corso e immediatamente al verso 19 vi sovresso rechio questa persona dirvi chi sia sarei a parlare in Darno che il nome mio ancora molto non suona cioè io porto il mio corpo vi ricordate che persona è un tecnicismo aristotelico l'abbiamo detto all'inizio del percorso infernale che vuol dire insieme di corpo e anima e quindi abbiamo detto appunto che Dante è la sola persona in tutto il libro mentre tutto il resto dei personaggi sono solo anime allora io porto qui la mia persona dirvi il mio nome chi sono sarebbe parlare a vuoto già che il mio nome non è ancora molto famoso vedete vedete che trasformazione ha già subito in tante personaggio no? perché quando lui aveva visto Virgilio nella selva e aveva aveva visto che che Virgilio era lui tutto commosso dall'incontro con questo suo poeta amato e aveva detto che da lui dall'Eneide aveva imparato il bello stile che gli ha fatto onore sto passando alla terza persona quello che Dante dice in prima e quindi Dante si riconosce nel 1300 chiaramente non è ancora l'autore della commedia ma è l'autore della vita nuova è l'autore di molte rime d'amore che secondo un po' tesi abbastanza recente erano state anche anche esse raccolte da lui in un libro in un canzoniere ma indipendentemente da questo lui stesso si era presentato come un poeta in un certo onore ce l'aveva già e chiaramente il discorso sulla fama che ha sentito da poco da Oderisi da Gubbio ha calato profondamente nella sua anima per cui adesso dice il mio nome insomma per ora non importa e al verso 22 Dante non ha detto il nome e non ha detto nemmeno il nome del fiume e quindi una delle anime di cui sapremo l'identità tra un po' risponde se bello intendimento tu accarno con l'intelletto allora mi rispose quei che diceva prima tu parli d'Arno cioè se ho capito bene hai fatto tutta questa perifrasi ma stai parlando non di un fiumicello stai parlando d'Arno e l'altra anima al verso 25 continua a parlare di Dante con il suo compagno di penitenza in terza persona che l'altro disse lui perché nascose questo il vocabol di quella riviera pur come fa delle orribili cose cioè questo ha intuito che Dante in qualche modo è come se non volesse nominare l'Arno perché è un nome associato alla malvagità alla corruzione come siamo già abituati a sentire nell'invettive contro Firenze Pisa insomma le città toscane ma soprattutto Firenze ma ora vedremo che non si salva manco una allora verso 25 quello che comincia a domandare l'altro è perché questo nasconde il nome di quel fiume come di solito si fa con le cose orribili meravigliosa modernissima osservazione di linguistica attuale perché oggi sappiamo che effettivamente l'eufemismo è qualcosa associato in tutte le lingue almeno in quelle più studiate associate alla scatolagia quello che non si vuole nominare direttamente come se nominarle implicasse un contatto troppo diretto con una realtà che può nuocere vero? allora in qualche modo questo personaggio si è già dato la risposta perché è come se spiegasse perché Dante non ha voluto nominare l'Arno e allora l'altro penitente al verso 28 l'ombra che dice domandata era quindi che era stata interrogata su questo si sdevitò così cioè risposi in questo modo e qui inizia un lunghissimo discorso in cui quest'anima non solo diciamo dice beh sì hai ragione ma comincia una descrizione sul corso dell'Arno attraverso la quale va criticando duramente le popolazioni che va trovando appunto la valle dell'Arno nel suo corso è una è un discorso intanto del tutto coerente con la voce del Dante scrittore nel senso che tutte le critiche qui vengono fatte alle città toscane sono critiche che il Dante poeta avrebbe volontariamente sottoscritto e bisogna anche notare che in un altro canto 14 in quello dell'Inferno c'era stata anche in voce di Virgilio quella volta un discorso che riguardava i fiumi dell'Inferno anche quella volta divisi in quattro e che Virgilio aveva spiegato vi ricordate che provenivano che in realtà erano un solo fume che Dante vedeva parzialmente nei diversi cerchi e che provenivano dal pianto del vecchio di Creta di questo diciamo questa scultura enorme che simboleggia che raccoglieva diciamo il pianto di tutta l'umanità quindi Dante come vedete ha sempre attenzione alla simmetria numerica tra i canti non a caso nel canto 14 l'Inferno si parla lungamente di fiumi come qua dell'Arno ed effettivamente questo è un canto che fa ricordare molto da vicino l'Inferno per le cose che si dicono allora l'altra cosa da tenere presente per considerare come Dante probabilmente pensò a questo discorso del penitente è che nelle cronache del Villani che erano cronache insomma contemporanee sulla sulla storia delle città anche lì diciamo il Villani si sofferma sulle quattro città che qui vengono alluse attraverso questo percorso del fiume solo che ora vedremo nel canto quattordicesimo del purgatorio Dante mette nella voce in bocca a un penitente una descrizione bestiale delle popolazioni che l'Arno attraversa e ora vediamo la quantità di animali che troveremo qua allora al verso 28 dicevamo l'ombra che era stata interrogata risponde così e inizia al verso 29 la risposta non so ma degno bene che il nome di Taliballe era cioè non so perché questo diciamo questo uomo vivo ha taciuto il nome dell'Arno ma ha fatto bene cioè è degno è giusto che il nome di quella valle perisca muoia già ci annuncia che effettivamente il ricordo delle popolazioni che vivono vicino all'Arno sono veramente da cancellare dalla terra e al verso 31 la spiegazione che dal principio suo ove si premia da pestro monte un detronco beloro che in pochi luoghi passa oltre a quel segno in fin là ve si rende per il storo di quel che il cielo della marina asciuga ondanno i fiumi ciò che va con loro vertù così per mimica si fuga da tutti come viscia o per sventura del luogo o per maluso che li fuga tremenda constatazione per il povero Dante che è ancora vivo e che deve tornare a Firenze dopo aver fatto questo viaggio allora si dice già che verso 31 riprendo la paracasi dalla sua origine dove nasce agli monti dell'alpi dell'oro dove più scusate additisco perché si sente il rumore ecco scusate allora già che fin dall'inizio dove nasce nelle alpi fino fino alla sua foce cioè dove si rende si restituisce per ristorare quel mare che era stato asciugato dal sole vedete è interessante questa diciamo indiretta allusione all'origine tra origine scusate la coincidenza l'identità tra origine e destino anche nel ciclo dell'acqua cioè i fiumi sono formati dalle piogge che sono il prodotto dell'evaporazione del mare quindi quando tornano al mare stanno rendendo restituendo ciò che l'evaporazione aveva tolto però comunque per riprendere il senso globale si sta dicendo già che l'Arno dalla sua origine fino alla fuce verso 37 la virtù è evitata come se fosse una nemica da tutti come se fosse una viscia primo animale dei tanti che popolano questo discorso e quindi la gente fugge dalla virtù come se fosse pericolosa come un serpe o per sventura del luogo come se avesse il luogo quasi una predestinazione ad essere diciamo malvagio o per maluso che gli stimola cioè o per l'abitudine degli abitanti che gli stimola a fare il male questa questa doppia possibilità dell'origine del male della valle dell'Arno che si presenta qua nei versi 38-39 a Dante rimarrà nella testa e infatti vedremo dopo le vacanze nel canto sedicesimo sempre del purgatorio Dante chiederà a un personaggio molto importante che incontrerà tra gli racconti quale di queste due ipotesi sull'origine del male del mondo è quella vera quindi è qualcosa che insomma rimane nella memoria del pellegrino e al verso 40 aggiunge quest'anima e sta dicendo che effettivamente Dante ha fatto bene a non nominare l'Arno perché effettivamente tutte le popolazioni che abitano vicino a lui fuggono dalla virtù aggiunge ondanno si mutata loro natura gli abitatori della misera valle che parche Circe li avesse in pastura cioè hanno tanto modificato degradato la loro natura che doveva essere umana gli abitanti di quella povera valle che sembra che fossero alimentati dalla maga Circe che come sapete trasformava anche i marinai di Lisse in maiali quindi si anticipa subito la presenza dei maiali che effettivamente verranno utilizzati per caratterizzare la prima popolazione all'usa in questa serie di quattro che sono i casentini al verso 43 tra brutti porci più degni di galle che d'altro cibo fatto in umanuso dirizza prima il suo povero galle cioè l'arno indirizza prima il suo povero corso vedete che c'è una personificazione diciamo dell'arno come si soffrisse per dover attraversare insomma territori così corrotti allora indirizza il suo corso il fiume inizialmente tra brutti porci più degni di ghiande che di un cibo fatto per gli umani e questi sono appunto quelli del casentino probabilmente Dante è stato indotto a identificarli con maiali perché i guidi di Romagna che erano appunto molto potenti nel casentino erano chiamati guidi di porciano e quindi forse questa identità con la parola porco le ha indotto a chiamarli porci ma senz'altro è connotata come bestiale questa popolazione di una bestialità proprio sporca che molti dei commentatori antichi hanno associato alla gola e alla lussuria quindi a peccati di incontinenza e a proposito di questo vedremo che man mano che continua questa narrazione che va descrivendo progressivamente il corso dell'Arno gli animali con cui vengono paragonati gli altri tre gruppi di abitanti vanno increscendo per quel che riguarda il simbolo dei peccati evocati dai diversi animali finora abbiamo i maiali del casentino ora al verso 46 arrivano i cani votoli trova votoli trova poi venendo giuso ringhiosi più che non chiede lor possa e da lor disdegnosa torce il muso il soggetto è la valle dell'Arno trova poi i votoli che sono cani molto piccoli andando verso il basso venendo giù più ringhiosi di quanto non corrisponderebbe alla loro potenza quindi che abbaiano più di quanto possano effettivamente mordere e la valle dell'Arno disdegnosa torce il muso da loro è interessante qua perché prima la valle dell'Arno era caratterizzata come una vittima che deve per forza attraversare misera queste popolazioni adesso è come se si fosse contagiata dalla bestialità perché chiaramente il muso non è il viso umano è quello degli animali quindi come schifata la valle dell'Arno torci il muso da questi cani che abbaiano come se fossero potenti e non lo sono che secondo l'unanimità dei commentatori sono gli aretini e immediatamente al verso 49 arrivano i lupi vassicaggendo e quant'è la più ingrossa tanto più trova di camparsi lupi la maledetta e sventurata fossa cioè la fossa la valle maledetta e sventurata continua a cadere e man mano che diventa più grossa tanto trova che i cani cioè i botoli aretini diventano lupi ecco la lupa si è un animale di cui abbiamo avuto modo di parlare lungamente proprio perché già fin dalla selva abbiamo imparato che la lupa era delle tre belve che impediscono l'andata di Dante verso il monte illuminato è quella più grave la sola che richiede dell'intervento di Virgilio la sola che fa perdere a Dante la speranza dell'altezza la sola di fronte alla quale Virgilio fa tutta la profezia del vento e quindi di questa lupa che rappresenta la cupidigia ora possiamo diciamo senza dubbi dire che nonostante Dante l'abbia associato a molti altri e soprattutto alla chiesa adesso la associa direttamente ai fiorentini e qui se come alcuni sostengono i porci e i cani sono animali che rappresentano peccati di incontinenza quindi meno gravi arrivando ai lupi fiorentini chiaramente stiamo scendendo in un modo qualitativo perché come sapete la cupidigia è per Dante l'origine di tutti i mali sociali che ci sono al mondo e quindi era prevedibile in qualche modo che arrivando a Firenze diventasse ancora più grave questo discorso già di per sé abbastanza triste e al verso 52 l'Arno non ha finito il suo corso discesa poi per pioppiela di cupi trova le volpi si piene di froda che non temono l'ingegno che li occupi allora una volta che comincia il suo percorso tortuoso a causa dei boschi trova le volpi le volpi sapete anche oggi rappresentano un'astuzia fraudolenta le volpi così piena di froda quindi qui c'è il termine tecnico che lo stesso Virgilio ha usato per caratterizzare l'ottavo il nono cerchio quando nel canto undicesimo spiega a Dante la classificazione dei peccati così pieni di frode che non temono di essere sconfitti da nessuna intelligenza questo insomma implica veramente la la maggior discenza si tratta dei pisani di cui noi abbiamo avuto esempi terribili nel più basso inferno perché ricordiamo ancora una volta che la frode delle tre categorie aristoteliche che Dante prende per classificare i peccati dei dannati incontinenza violenza e frode appunto è quella più grave ed è quella di cui si macchiarono tutti i peccatori del basso inferno dell'ottavo malebolge diviso in dieci volge vi ricordate perché la frode trova dieci diverse manifestazioni ma anche il nono perché il tradimento come spiega benissimo Virgilio è un caso particolare di frode aggravato dal vincolo di fiducia cioè è la frode contro chi si fida ed ecco che lì c'è per esempio un volino pisano come questi qua volpe quanto traditore e cioè fraudolento che mette che è così astuto insomma che mette al servizio mette l'intelligenza al servizio del tradimento e finita questa enumerazione terrificante delle popolazioni in bestialitesi della valle dell'Arno quest'anima la cui identità non conosciamo ancora si interrompe un attimo al verso 55 e ci dice che non gli importa che un altro stia sentendo il suo discorso e che farà una profezia allora ne lascerò di dir per altri moda cioè non smetterò di parlare perché qualcuno qua vicino probabilmente quello che ha parlato prima con lui mi stia sentendo scusate vedo qualcosa nella chat volpi e lupi non sono lo stesso animale no no volpe è quello che noi diciamo sorro e lupo e l'ovo quindi no non lo sono e sono comunque tutti e due orrendi per Dante come simboli la comidige e la frode niente di meno ma la volpe è sempre quella più astuta e infatti non so se vi ricordate nel canto 27 dell'inferno di cui è protagonista guido da Montefeltro non a caso queste anime che sono qua sono romagnole come lui guido aveva detto che la propria abilità politica non era da leone ma da volpe cioè che non implicava la forza fisica ma l'astuzia gli stratagemmi nascosti allora e quest'anima appena detto non smetterò di parlare e buon sarà costui con sanmenta di ciò che vero spirito mi disnoda cioè sarà buono per lui se si ricorda di quello che uno spirito verace chiaramente diciamo lo spirito divino mi scioglie dentro mi disnoda e adesso al verso 57 comincia questa orrenda profezia su un personaggio che come capiremo dopo e vabbè poi vi dico chi è quando Dante decide di raccontarcelo verso 58 io vedo tuo nipote che diventa cacciatore di quei lupi sulla riva del fiero fiume e tutti li sgomenta cioè io vedo tuo nipote dice questo penitente all'altro con il quale sul quale è appoggiato vedo che tuo nipote vedo tuo nipote che diventa cacciatore di quei lupi cioè dei fiorentini sull'arriva del fiero fiume cioè dell'Arno e li sgomenta tutti li terrorizza vende la carne loro essendo viva terribile descrizione di un malfattore come pochi poscia li ancide come antica belva come facevano le fiere dei miti li uccide molti di vita e se di pregio priva cioè priva molti della vita ammazzandoli e con lo stesso gesto priva se stesso di ogni onore e quindi vedete come il verbo privare serve alle due cose no continuo al verso 64 a parlare del nipote di quell'altro la cui identità non conosciamo sanguinoso esce della trista selva lascia la tale che di cui ha mille anni nello stato primario non si rinselva cioè esce dalla trista selva che qui sta per Firenze macchiato di sangue e la lascia in una tale condizione che passeranno mille anni finché potrà rinnovare le foglie no le fronde come era prima rinselvare rinselvarsi è un dantismo è uno dei tanti neologismi che inventa Dante e allora sono finite queste parole pensate che discorso lungo ha fatto questo personaggio no ha prima detto effettivamente l'Arno ha paura nominarlo ha fatto una descrizione bestiale delle popolazioni che diciamo saluta l'Arno nel suo corso e immediatamente dice all'altro penitente con il quale stava parlando prima io vedo grazie alla verità che Dio mi dà che tuo nipote farà uno strazio di Fiorentini e che lascerà Firenze in condizioni difficilissime da essere ricostruita ma non sappiamo ancora chi sono questi due e infatti Dante che è molto curioso come sappiamo tra un po' lo chiederà al verso 67 ripende il Dante poeta come all'annunzio di dogliosi danni si turba il viso di colui che ascolta da qualche parte il periglio la sanni così vi Dio l'altra anima che volta stava a udir turbarsi e farsi triste poiché ebbe la parola a sé raccolta allora l'altro che ascoltava si turba in viso come chi si turba non sapendo da quale parte arriva un pericolo in agguato ed è interessante diciamo che il Dante poeta spenda ben due terzine per dire come diventò triste e turbato questo perché ricordiamo che questi sono penitenti di invidia e abbiamo visto la settimana scorsa come Sapia Senese caratterizza proprio il suo peccato come la gioia davanti al male altrui e queste anime invece che stanno purgando l'invidia ora sono destinate almeno insomma in questa fase di contrapasso a soffrire del male altrui e quindi hanno già fatto almeno questa conversione e al verso 73 Dante allora chiaramente vuole sapere chi sono lo dir dell'una e dell'altra la vista mi fer voglioso di saper loro nomi e di mandane fei comprie gli mista cioè il discorso di una che come dicevamo è un discorso che il Dante personaggio potrebbe anche condividere e la vista dell'altro che non abbiamo ancora parlato mi fecero voglioso di conoscere i loro nomi e allora io domandai loro di dirmelo pregandoli cioè mi sta la domanda con preghiera perché lo spirito che di pria parlò mi ricominciò per cui lo spirito che stava parlando prima è sempre lui riprese a parlare così verso 77 tu vuoi che io mi deduca nel fare a te ciò che tu fanno uomini cioè la prima cosa che quest'anima osserva è interessante anche credo trattandosi di un penitente di invidia che sta un po' calcolare che cosa gli ha dato l'altro prima di darsi lui perché gli dice tu vuoi che io induca a fare verso di te quello che tu non hai voluto fare con me perché mi stai chiedendo il nome ma tu il tuo nome intanto non me l'hai detto ma immediatamente perché sa che deve ancora lavorare su se stesso al verso 79 ma da che Dio in te vuol che traluca tanto sua grazia non ti sarò scarso cioè ma visto che Dio vuole che in te appaia no riluca tanto la sua grazia non ti sarò scarso cioè sarò generoso e ti dirò quello che tu non mi hai detto però sappi chi io fui Guido del Duca cioè perciò ti dico che fu Guido del Duca allora Guido del Duca fu un nobile di Bellino Romagnolo forse della famiglia nobile degli Onesti di Ravenna che fu giudice in diverse città e visse a lungo a Bretinoro in provincia di Forlì dove adesso ci sarà un discorso su Bretinoro appunto e appartiene lui visse all'inizio di mille del secolo dodicesimo del millecento quindi appartiene prestapoco alla generazione di Cacciaguida che è il prisagolo di Dante che Dante troverà in paradiso e che è una generazione in qualche modo abbastanza idealizzata da Dante dove la cortesia la liberalità queste virtù tipiche della nobiltà si vedevano ancora in Italia ma immediatamente dopo essersi presentato aggiunge al verso 82 fu il sangue mio di invidia si riarzo che se veduto avesse uom farsi lieto visto mi avresti di livore sparso cioè il mio sangue ardeva così tanto di invidia che se io avessi visto qualcuno essere felice tu mi avresti visto sparso cioè pinto di livore di nuovo questo colore della pietra che ora tutti hanno e che aveva reso inizialmente indistinguibili le anime dalla pietra da parte di Dante vi ricordate? allora di nuovo si caratterizza l'invidia come dicevamo non nel modo insomma vulgato come la conosciamo noi come volontà di avere il bene che magari qualcuno ha bensì come la sofferenza di fronte alla gioia altrui che è quello che abbiamo visto anche in Sapia la settimana scorsa e quindi vedete come nella concezione dantesca che tra l'altro accoglie quella visione tradizionale che c'era già nella filosofia classica secondo cui la virtù coincide con l'allegria con la felicità il peccato coincide con la sofferenza perché lui dice che ardeva nel sangue il suo sangue ardeva di invidia e avrebbe sofferto nel vedere la gioia altrui quindi è uno che in cui è molto evidente la tristezza del peccato come l'invidia non è solo un rischio per gli altri ma anche per se stessi e immediatamente al verso 85 aggiunge di mia semente cotalpaia mieto cioè di questa origine mia raccolgo questo frutto cioè da questo seme di invidia adesso sto insomma con gli occhi cuciti e immediatamente una domanda che sarà anche questa molto importante nel canto prossimo o gente umana perché poni il cuore la ve mestier di consorte di vieto cioè o gente umana perché rivolgi il tuo desiderio con il cuore laddove necessariamente è vietata la condivisione lo so che non state capendo niente ma neanche Dante e infatti nel prossimo episodio lui chiederà a Virgilio che ha voluto dire quello spirito attraverso questi versi e quindi Virgilio spiegherà va bene? allora io direi siccome dal verso 88 inizia la presentazione dell'altro personaggio l'altro penitente che accanto a lui il cui nipote sarà uno strazio per i fiorentini direi di fare la pausa ora diamoci cinque minuti e dopodiché riprendiamo e nel frattempo inviate per favore se avete delle domande da fare inviatele sulla chat grazie se il verso 71 vende la carne loro essendo viva sarebbe schiavizzare in realtà no si riferisce soprattutto adesso vedremo chi è questo personaggio il soggetto di questo di questa frase così orrenda ma è piuttosto il fatto di consegnare persone affinché vengano uccise bibliografia sulle influenze arabi nella media adesso non mi vengono in mente allora ha le influenze le influenze del libro della scala a questo forse si riferisce Enrico beh c'è il libro celebre insomma di Asim Palacio su questo argomento l'altra persona diciamo che non è non è considerato troppo affidabile dai dantisti in genere Maria Corti ha studiato questo aspetto e poi un libro di cui ho avuto modo di parlare credo qualche settimana fa che è il libro diciamo compilato da Umberto Eco che si chiama l'idea di forme che è appunto una raccolta di articoli sui contributi delle diciamo delle correnti eterodosse del dantismo non del dantismo accademico e i contributi che si hanno dato appunto al dantismo vero e proprio e lì c'è un articolo appunto sui rapporti con la letteratura araba cioè con l'arco l'idea di forme non non è disponibile non l'ho trovato in nessun posto anche i libri di Asim Palacio neanche va bene Enrico io scrivo qua la mia mail perché perché li posso prestare se qui che dice ah no no scusate allora vediamo se riesco a scrivere per tutti molti ce l'hanno comunque la mia mail ma la ripeto qua io posso insomma possiamo metterci d'accordo glielo faccio arrivare eh sto vedendo sto andando indietro vabbè ci sono grazie prego ci sono dei riferimenti alla traduzione che ho fatto per Coligue eh come sanno le anime che Dante apre chiude gli occhi se hanno gli occhi cuciti beh infatti non lo dice con una totale certezza dice sembra se non sbaglio aspettate che ritrovo oddio dove ho lasciato la prima pagina vabbè eh lo intuiscono perché eh perché cammina perché ha già parlato con l'altra anima e quindi sembra che eh diciamo queste anime lo commentano perché hanno capito che Dante è vivo e che quindi eh a differenza di loro non ha il loro contrapasso non è che abbiano visto gli occhi di Dante si rendono conto anche dalla voce poi ci sarà una menzione a questo che Dante sta camminando eh e che sta camminando a una a una velocità chiaramente che hanno coloro che vedono e quindi eh se ne accorgono perciò eh qualcuno dice non ho capito nell'inizio nell'inizio del canto come stanno in Trenite ha lo stesso lo stesso dubbio insomma ehm che che aveva espresso Ugo lo esprime non vedo bene chi Giselle forse e a Germán dice eh per Enrico che il libro di Assin Palazzo si può trovare in PDF su internet beh Finite eh Finite allora le domande eh riprendiamo se siete d'accordo eh a meno che vissi a eh vissi a merso un qualche altro dubbio adesso mentre parlavamo volete domandare qualcosa io una pregunta por ahí è molto elementale però la voy a hacer perché il habla di un purgatorio di la storia di cire di queste città di le città italiane in cui vive è un purgatorio è come la idea di che solo toma lo local come una muestra de lo universal non ho capito bene non ho capito bene la prima parte della affermazione eh cioè la idea è come lo local come va a essere universal realmente lo che escribe perché lo toma de lo local però la intenzione por ahí è l'universal eh beh sì diciamo è interessante la domanda grazie eh in parte questa domanda eh avrà una risposta nel canto diciassette del paradiso perché lì a Dante viene detto da questo suo trisagolo cacciaguida che ho menzionato prima non solo in che cosa consisterà il suo esilio e qual è la sua missione di poeta ma eh perché tra tutte le anime possibili dell'aldilà mi sono stati eh fatti vedere solo alcune no e allora lì ehm appunto eh quello che si dice è che siccome il libro ha un obiettivo di modificare la realtà eh le 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 i personaggi che Dante con cui Dante ha parlato eh erano tutti famosi e che questo è successo questo gli è stato dato appunto perché noi lettori non possiamo dar fede diciamo di eh diciamo non possiamo credere e non possiamo imparare da esempi ignoti da personaggi che non abbiano un legame con la nostra conoscenza precedente e quindi effettivamente ehm per collegare questo discorso di cacciaguida con la sua domanda eh mancherebbe una parte a questo ragionamento ed è il fatto che Dante scrivendo la sua commedia in volgare si rivolge soprattutto agli italiani eh mentre invece le opere che scrissi in latino chiaramente eh si rivolgevano un pubblico di letterati europei in genere e allora questo libro effettivamente è un libro molto italiano molto italiano nonostante le idee che hanno cercato gli scrittori argentini di farci avere su Dante no? Come un classico universale dove l'italianità è praticamente cancellata cioè nell'immagine dell'elite intellettuale argentina Dante è un classico che convive con con Omero con Shakespeare eh e che praticamente non tocca l'immaginario dell'Italia eh che è un immaginario soprattutto nel periodo di delle migrazioni eh visto dall'elite come fortemente ignorante non italofono bensì dialettofono e quindi eh Dante facendo parte dell'alta cultura eh si spoglie in qualche modo in quell'immaginario dai suoi tratti più italiani e infatti chi per esempio crede a Borges quando Borges dice che Dante fa questo viaggio incontra le anime degli antichi come dice nella conferenza che apre Siete Noces beh uno apre e dice vabbè di antichi quanti ce ne sono più del 90% delle anime con cui Dante parla sono contemporanei eh sì certo c'è Unisse certo c'è Cavaneo sì ci sono chiaramente alcuni personaggi antichi ma la stragrande maggioranza è fatta da italiani molto vicini a lui nel tempo e e questo è qualcosa che che attira l'attenzione come lei ha effettivamente notato e chiaramente Dante deve essere convinto che il suo libro ha un messaggio universale perché chiaramente se lui stesso si chiama chiama se stesso scriva dei dice di star scrivendo mettendo la sua penna al servizio del messaggio divino è ovvio che Dio non invia il messaggio solo agli italiani per cui chiaramente la descrizione dello stato delle anime e della corruzione del mondo la possiamo generalizzare ed effettivamente lui stesso dal punto di vista biografico sembra che abbia generalizzato insomma durante l'esilio andando insomma in giro per così tanti comuni e corti abbia capito che il male non è solo di Firenze ma è che è del mondo popolato che per Dante coincide come sappiamo con l'emistero nord in cui l'Europa ha un volo centrale vedo che nel frattempo ci sono prego ci sono altre domande allora qual è la posizione della chiesa sulla commedia è quella l'idea di premio e punizione che propone Dante è un argomento che io non ho studiato poi come sapete la chiesa cambia molto insomma la chiesa dentro la chiesa attuale per esempio c'è un grande amore per Dante il Papa Francesco cita Dante molto spesso ed è un lettore attento della divina commedia ma non tutti nella chiesa amano Dante anche perché come sapete ci sono molte invettive contro la corruzione della chiesa nella commedia e poi perché appunto questo che lei qua commenta l'idea di premio e punizione è qualcosa che soprattutto oggi si mette un po' in dubbio però la chiesa insomma dell'epoca di Dante e soprattutto la visione diciamo volgare dell'aldilà coincide insomma nessuno del tempo di Dante avrebbe messo in dubbio che intanto l'eternità dell'anima e quest'idea è molto più importante ancora di quella della punizione del premio cioè l'eternità dell'anima che per Dante insomma è una parte centralissima della filosofia e della teologia infatti nel convivio lui dice che non c'è bestialità maggiore di quella di coloro che negano l'immortalità dell'anima no poi come l'anima insomma viene trattata da Dio nell'aldilà su questo la chiesa ha cambiato parere io poi non sono una teologa per niente per cui non saprei come risponderebbe qualcuno che capisce di teologia attuale ma i lettori cui Dante si rivolgeva non mettevano in dubbio l'esistenza dell'inferno e del paradiso era era quasi scontato questo non so se ho risposto bene allora se siete d'accordo continuiamo avevamo lasciato un po' interrotto il discorso di Guido del Duca che ora sta per presentare il suo compagno di penitenza scusate che qualcuno ha inviato qualcosa l'inferno di Dante il più famoso della letteratura è un establissimento penale in forma penale in inversa polla fantasma d'Italia può inolvidare il sindicato borges ah bene come prologo a conrad qui si parla dell'Italia grazie non ricordavo questo testo perché effettivamente Borges ha parlato di Dante moltissimo non solo in questi testi canonici diciamo come i nove sacchi danteschi questo questo articolo qui mi riferivo prima che apre il siete nocce che si chiama appunto la divina comedia anche anche il il prologo all'edizione di Jackson della divina commedia che in parte coincide con quello ma effettivamente come adesso fa notare Orazio grazie Borges si riferisce a Dante in molte altre occasioni in altri prologhi praticamente ogni volta che parla di qualunque classico parla anche di Dante e anche in molti dialoghi effettivamente grazie però insomma non non rinnego comunque di quello che dicevo prima basta leggere l'Ade basta leggere diciamo la parodia che c'è in Carlos Argentino Daneri e la diciamo il il disprezio verso un'italianità degradata rispetto dell'italianità antica di Dante in Borges allora al verso 88 Guido del Duca presenta l'altro cui si era rivolto in seconda persona vi ricordate prima per fargli questa orribile profezia sulle sorti di Firenze sotto il il potere del nipote no questi eriniere questi è il pregio e l'onore della casa da Calvoli ove nullo fatto sareda poi del suo valore allora questo eriniere da Calvoli appunto probabilmente della famiglia dei Paolucci di Forlì un altro appunto romagnolo molto potente questo però a differenza di Guido del Duca Guelfo che ebbe grandi influenze in moltissime città della Romagna e che era stato ammazzato dagli Ordelacchi nel 1296 a Forlì quando cercava di recuperarla sotto il suo potere ma al di là diciamo di di questo quello importantissimo di questi versi è l'affermazione che succede il nome nessuno si è fatto erede del suo valore cioè il suo sangue la sua discendenza è pessima e questo sarà appunto uno dei topoi principali del resto del canto e tra l'altro abbiamo già visitato nella valle dei principi vero dove c'erano questi monarchi sofferenti per vedere insomma i disastri combinati dai loro successori e appunto appunto il nipote Ulceri da Calvoli e questo su cui Guido dal Duca ha fatto prima la profezia tremenda su come distruggerà ucciderà Fiorentini al punto che passeranno mille anni finché Firenze non riuscirà a rinselvarsi no? Questo Funceri da Calvoli è chiaramente quello che Guido dal Duca diceva io vedo grazie a uno spirito vero e futuro rispetto di questo dialogo che come sapete ha luogo nella Pasqua del 1300 e qui però chiaramente è passato rispetto della scrittura del libro e appunto è stato appunto Podestà di Firenze nel 1303 quindi un po' dopo questo dialogo uno dei guelfi neri crudelissimi nei confronti dei guelfi bianchi e dei di Bellini che uccise moltissimi Fiorentini mentre Dante era in esilio e quindi probabilmente apprendeva queste notizie sanguinose essendo da fuori soffrendo chiaramente come uno soffre per la propria patria anche quando ne è lontano e nel 1312 era stato tra quelli che più si erano opposti cioè secondo il momento del dialogo si sarebbero opposti in un futuro all'impresa di Arrigo VII che come voi sapete Dante considerava providenziale perché avrebbe questo imperatore germanico riportato l'unità politica all'Europa il che poi non accadde e come voi sapete Dante nemmeno individualmente può godere delle possibili buone conseguenze che avrebbe avuto questa cosa per lui come esule però allora adesso appunto a proposito di Rimieri da Calvoli che ebbe nel nipote e nel resto degli eredi diciamo persone che diciamo non riflettevano il suo onore comincia una generalizzazione al verso 91 e non pur lo suo sangue fatto brullo tra il poi il monte la marina e il reno del ben richiesto al vero e al trastullo che dentro a questi termini è ripieno di venenosi sterti sicché tardi per coltivare o mai verrebbero meno allora non solo il suo sangue cioè i calvoli è diventato privo del bene che richiede la verità e l'intrattenimento e cioè bellissima osservazione dice non solo dentro questi limiti i limiti sono i limiti appunto dell'Emilia Romagna non solo il suo sangue cioè i suoi discendenti sono diventati aridi di quel bene che è richiesto per vivere secondo verità e diletto e questo è quello che dico che è molto bello è l'idea che non solo ha la rettitudine la verità ha come premessa il bene ma anche il trastullo anche il divertimento anche l'ozio richiede di una virtù e immediatamente appunto dice già che dentro questi limiti cioè il po il monte la marina il reno che sono i limiti dell'Emilia Romagna è strapieno di sterpi venenosi cioè di arbusti pieni di spine sterpi non so se vi ricordate la parola che usa Pier della Vigna nel canto 13 dell'inferno per caratterizzare il corpo arboreo sterile pieno di spine velenose che è il corpo appunto dei suicidi cioè è così pieno di malerba che ormai sarebbe tardi volerlo coltivare questo terreno e al verso 97 è sempre Guido dal Duco che sta parlando inizia un Ubisunt sapete questa questa figura antica nella quale ci si domanda dei buoni antecessori dei tempi antichi della virtù noi nella dicono Manrique molto bene che se hizo il rey Don Juan los infantes di Aragon che se insieron che fu di tanto Fugon si effettivamente nella letteratura spagnola c'è questo meraviglioso poema Muerte alla coppa del suo padre dove c'è un enorme Ubisunt che ha più o meno lo stesso senso di questo cioè la lamentela su una virtù che è andata persa poi e che è parte costitutiva della nostra cultura tradizionale il fatto di vivere la propria epoca contemporanea come prodotto di una decadenza rispetto di un un origine idealizzata no c'è nell'idea dell'Eden del del giudeo cristianesimo c'è nell'idea del dell'era dell'oro di Saturno nella nella letteratura classica nella mitologia pagana e c'è chiaramente ogni volta che diciamo quando io ero piccola le cose stavano andavano meglio e quindi è un'idea fortemente presente nella nostra cultura capovolta molto brevemente ultimamente dall'idea di progressismo dall'idea che si può stare meglio di prima ma che è ancora molto breve dove sono quelli che ci hanno preceduti ma che ha un'implicazione ideologica non è una domanda insomma solo filosofica come per esempio potremmo pensare a una sorta di che c'è una canzone bellissima di Silvio Rodríguez a donde van las palabras che non si chiedaron a donde van las miradas che un dia partieron quella è una domanda filosofica sul carattere efimero di alcune cose ma l'Ubisunt in Manrique e in Dante beh in Manrique forse un po' una via di mezzo ma in Dante sicuramente è un'idea nostalgica che ha come premessa prima si stava meglio appunto nella generazione di Guido del Duca in quella di Cacciaguida cioè non a caso i tre canti centrali del paradiso avranno non nella forma dell'Ubisunt ma comunque con lo stesso senso avrà una memoria diciamo Cacciaguida avrà una memoria della sua epoca idealizzata dove Firenze era sobria pudica non ostentosa si viveva in serenità in ordine in pace in contrasto con la Firenze contemporanea di Dante no? che è posterior per Manrique Tempus Fugi Tempus infatti infatti grazie e infatti inizia no? cioè anche anche l'idea no? delle nostre vite come fiumi che vanno al mare cioè bene benissimo vi dicevo allora grazie dell'intervento che al verso 97 inizia una serie un Ubisunt che annovera ben 17 nomi propri di personaggi chiaramente rimpianti di virtù che ormai non si trova più personaggi su cui abbiamo pochissimi dati insomma documentari ma molta letteratura che comunque ora diciamo cerchiamo di leggere velocemente poi voi avete accesso ai commenti ma l'importante è poter cogliere l'idea generale che emerge da questi disondri ov'è il buon Lizio a Rigo Mainardi Pier Traversaro e Guido di Cartigna o Romagnoli tornati bastardi chiaramente hanno nominato cavalieri pieni di onore che poi troveremo anche nel Decameron per esempio quando in Bologna un fabbro si ralligna quando potrà rinascere rallignare è una metafora botanica quando potrà dare nuovi potrà risorgere in una pianta come un nuovo Zermoglio questo un nobile come fabbro quando in Faenzo un Bernardin di Fosco Verga Gentil di Piccio la Gramigna questo verso è molto importante perché chiaramente il discorso di Guido del Duca non è un discorso della nobiltà del sangue è un discorso della nobiltà d'animo quello che lui rimpiange è un'Emilia Romagna nella quale c'era cortesia c'era liberalità c'era spiritualità e non padroneggiava prepotente come per Dante succede nel suo tempo il valore dei soldi il fiorino d'oro il frequente bersaglio di polemica di Dante la lupa appunto la cupidigia il consumismo la ricerca sfrenata di beni materiali che anziché dare la felicità che promettono allontanano dalla vera felicità e appunto siccome questo è un discorso triste il povero Guido del Duca che evidentemente non è più l'invidioso di prima della conversione non prova più il piacere nel vedere il male ma il contrario al verso 103 non ti maravigliarsi io piango tosco quando rimembro con Guido da Prata ugolì in danza che vivete nosco Federico dignoso e sua brigata la casa attraversare gli anastaggi e l'una gente e l'altra è direttata le donne e i cavalieri gli affanni e gli agi che ne invogliava amore e cortesia là dove i cuori sono fatti sì malvaggi allora dopo questa numerazione di gente brava che non si trova più questo bellissimo verso 109 le donne e i cavalieri gli affanni e gli agi cioè le fatiche e anche gli ozzi che facevano invogliare amore e cortesia e quindi una vita ordinata laboriosa e armoniosa che incitavano all'amore e alla cortesia questo è molto importante perché come abbiamo detto più volte per Dante l'individuo da solo non può fare il bene in un modo compiuto in questo Dante è molto aristotelico per Aristotele come sapete l'uomo è un animale politico cioè comunitario destinato a vivere tra gli altri e quindi quando c'è una crisi istituzionale come Dante appunto valuta la propria epoca dove sono vacanti le due grandi istituzioni il papato e l'impero certo non c'è un buon esempio che induca a fare il bene anche gli altri e adesso al verso 112 l'Ubisont si modifica e comincia una serie di apostrofi rivoltisi a personaggi i cui figli diciamo rappresenterebbero una minaccia una minaccia perché rovinerebbero il cognome una cosa davvero squallida cioè la volontà di non rifigliare perché si ha paura che i figli non saranno all'altezza dei genitori al verso 112 obreti noro che non fuggi via poiché gita se n'è la tua famiglia e molta gente per non essere ria qui si discute se questo verso 114 sia causale o finale cioè se n'è andata perché non era non era colpevole ria e quindi non voleva ancora convivere con la corruzione romagnola oppure finale per non diventare peccaminosa e partita ben fa Bagnacavall che non rifiglia cioè questo Bagnacavall aveva solo figlie femmine e quindi si considerava almeno il cognome messo in salvo e mal fa Castrocaro e peggio conio che di figliar tra i punti più si impiglia che si impunta e continua a rifigliare e produce dei conti pessimi ben faranno i pagani da che il demonio lorse ingirà ma non farò che puro giamai rimagna ad essi testimonio i pagani di questo sì forse conviene dire di chi si parla perché noi abbiamo abbiamo visto nel canto ventottesimo dell'inferno Baginati pagani appunto che è il demonio che qui si nomina che è morto nel 1303 quindi tre anni dopo questo dialogo ma dice i pagani faranno bene a non avere più figli perché quando sarà morto Maginardo il demonio loro non ci sarà più nessuno che continui il cognome ma ma essendoci stato lui non ci sarà mai più una testimonianza pura di questo cognome sarà già rovinato da questo individuo e al verso centoventuno sempre con quest'idea tremenda del fatto che converrebbe non fare più figli Ougolin dei fantolin sicuro hai il nome tuo da che più non si aspetta chi farlo possa tralineando oscuro tu puoi essere tranquillo del tuo nome già che non si attendono più nati tuoi che tralineando cioè deviando dalla dritta via potranno renderlo oscuro e dopo questa enumerazione terribile sulla mancata virtù nella Romagna attuale e in qualche modo sulla tristezza di questi uomini di una generazione migliore che soffrono nel vedere che il loro sangue non ha e non può più avere un buon seguito negli eredi questa quest'anima di Guido del Duca ha voglia di piangere al verso centoventiquattro ma va via tosco mai cioè ormai vattene toscano che ora mi diletta troppo di piangere più che di parlare si in mano straragion la mente stretta cioè adesso mi va molto più di piangere che non di parlare visto che la nostra conversazione mi ha oppreso la mente cioè averti detto tutto questo mi ha fatto venire voglia di piangere sono finite le parole di Guido del Duca e riprende Dante adesso c'è un po' la risposta a chi di voi domandava come queste anime sanno che Dante ha gli occhi aperti e io ho detto sanno che Dante è vivo e suppongono dal suo dal ritmo della sua camminata che Dante può vedere e infatti vedete quello che ci dice il Dante poeta qua verso centoventisette noi sapevamo che quell'anime care ci sentivano andare però tacendo facean noi del cammin confidare cioè noi sapevamo che quelle anime che non ci potevano vedere ci sentivano con l'udito la direzione che noi prendevamo con la nostra camminata perciò tacendo cioè nel fatto stesso che non ci dicessero nulla facean noi del cammin confidare cioè facevano sì che noi fossimo sicuri e stavamo prendendo la strada giusta perché altrimenti loro ci avrebbero detto eh no dall'altra parte e quindi evidentemente le anime sentono la direzione la velocità con la quale camminano Dante Virgilio e al verso 130 poi fumo fatti soli procedendo folgore parve quando l'aereo fende voce che giunse di contra dicendo anciderammi qualunque mi apprende e fuggì come tuon che si dilegua se subito la nuvola scosceva allora una volta che ormai da soli senza parlare eravamo un po' più avanti io e Virgilio dice Dante una voce arrivò così veloce che sembra un folgore che fende l'aria e che diceva mi ucciderà chiunque mi troverà che sono le parole che secondo il libro del Genesi della Genesi Caino dice in prima persona chiaramente come possiamo intuire e ora Virgilio lo dirà esplicitamente queste voci che sentono ora Dante e Virgilio sono analoghe a quelle che hanno sentito non appena erano saliti sulla seconda cornice che erano gli esempi di carità che invogliavano ad allontanarsi dall'invidia questi questi penitenti vi ricordate che abbiamo abbiamo sentito vinum non abben no gli esempi che urlavano queste voci e che Virgilio aveva immediatamente capito che fossero lo stimolo a abbracciare la virtù che si oppone al peccato che si sta scontando nella montagna e aveva annunciato Virgilio aveva detto prima che l'angelo ti dia il via per la terza cornice secondo me sentirai le voci che sono il freno e non lo stimolo come erano le altre il freno a questo peccato non so se qualcuno vuole dire qualcosa o si è acceso un microfono casualmente allora notiamo fin da subito perché saranno due gli esempi di invidia punita che queste voci diranno a Dante e Virgilio chiaramente ce ne saranno altre ma loro due ne hanno sentito queste ed entrambe diciamo riguardano il rapporto di fratellanza perché Caino come sappiamo è l'uccisore di Abele il traditore di Abele ma qui si dice una cosa interessante cioè che Caino in qualche modo il gesto di Caino è mosso dall'invidia dall'invidia per il fratello vero? e quindi l'infrazione di un vincolo naturale è chiaramente fortissimo e fuggi subito questa voce come un tuono che si dilegua se ha scoscesso subito la nuvola scusate che qualcuno domanda perché sempre debbono chiedere come continuare la strada è una risorsa di tante per inserire dei personaggi o c'è un altro motivo? beh intanto è un è un gesto diciamo è un elemento di vero sviglianza perché a differenza dell'inferno che era una geografia che Virgilio conosceva il purgatorio è nuovo per entrambi eh poi certamente le cose in un libro così perfetto come questo funzionano a più livelli certo il dante scrittore si serve anche di questa necessità narrativa che effettivamente è comprensibile perché né Dante né Virgilio sono stati lì prima quindi ovvio che hanno bisogno di indicazioni stradali diciamo ma certo molte volte questo serve anche al dante scrittore per diciamo dare inizio a un episodio di dialogo nuovo allora fugge questa prima voce che riguarda l'esempio di invidia punita che è quello di Caino e immediatamente dopo al verso 136 come da lei l'udir nostro è petriegua ed ecco l'altra con si gran fracasso che somigliò a tonare che tosto segua cioè non appena il nostro udito ebbe tregua cioè calmò questo sentire la voce ed ecco subito un'altra con un grande fracasso con un grande rumore che sembrò un tuono che segue subito il raggio il raggio che era il folgore con cui era stato paragonato il primo esempio e come al solito il secondo esempio è preso dal repertorio pagano classico io sono Aglauro che divenni sasso Aglauro era la figlia del re di Atene che l'invidia personificata aveva messo in lei la volontà di opporsi agli amori di sua sorella Erse con Mercurio e Mercurio la fece diventare appunto di sasso di pietra anche qua vedete l'invidia di una donna per sua sorella e quindi sono esempi estremistici esempi dove si fa vedere come l'invidia interrompe un vincolo particolarmente forte qual è quello della fratellanza e che è infatti significativo del vincolo che secondo Dante tutti noi dovremmo avere tra di noi ricordando come si dice nella cornice della superbia che siamo tutti fratelli perché tutti figli di Eva e quindi l'amore per il prossimo dipende nella visione della carità di Dante dal fatto che ci riconosciamo tutti figli e quindi tutti doverosi di amarci perché figli dello stesso padre allora suona verso 139 questo esempio di Aglauro e allora per ristringermi al poeta scusate allora per ristringermi al poeta in destro feci non innanzi in passo allora Dante che stava andando verso insomma davanti questa volta per la paura sentendo queste voci terribili che poi non hanno alcuna fonte visibile e che tra l'altro nominano due personaggi terribili si mette va verso destra accanto a Virgilio in un gesto anche qua del tutto comprensibile a livello letterale perché ogni volta che si spaventa Dante si mette vicino a Virgilio ma che ha anche questo insomma senso simbolico tenendo sempre presente che Virgilio è la sapienza la scienza la filosofia e che quindi per proteggersi da un peccato in questo caso dall'invidia abbracciare la filosofia la scienza è sempre la cosa naturale che può fare l'uomo anche se non fosse assistito come il caso di Dante dalla grazia e infatti come vedremo il geniale Virgilio dirà ora delle parole meravigliose contro l'invidia al verso 142 già era Laura ad ogni parte poeta ed Elmi disse quel fu il duro carno che dovria l'uomo tenere dentro a sua meta allora l'aria si era già pietata quindi non suonavano più voci e Virgilio dice a Dante quello fu il duro camo camo è il freno dei cavalli quindi Virgilio riprende la stessa metafora che lui stesso aveva proposto prima che dovrebbe vi ricordate che aveva parlato della sferza fatta di fili di amore di carità con cui si davano gli esempi della carità opposta all'invidia adesso dice questo il freno non è più lo stimolo la sferza che dovrebbe mantenere l'uomo dentro alla propria meta quindi facendo la propria strada questa idea della propria meta è molto importante perché da una parte uno può molto visibilmente associarla con una corsia che ognuno veda dove deve dirigersi senza guardare male il bene altrui ma siccome la meta dell'uomo per Dante è la salvezza eterna questo verso 144 potrebbe anche essere interpretato come questi esempi dovrebbero far sì che ognuno di noi guardi la propria meta spirituale perché effettivamente e questo è il significato come vedremo dopo le vacanze di questa affermazione di Guido del Duca del fatto che l'invidia nasce dalla volontà di avere beni che non tollerano consorti che non possono essere condivisi senza che diminuiscano questo verrà spiegato dopo Virgilio infatti che ha capito benissimo questo infatti nel prossimo canto lo spiegherà Dante rimprovera in Dante l'umanità peccaminosa e al verso 145 dice ma voi prendete l'esca si che l'amo dell'antico avversario a se vi tira e però poco va al freno poi chiamo ma voi prendete l'esca cioè vi lasciate tentare dall'esca in modo che l'amo sapete cos'è l'esca è la carnada e l'amo è l'anzuello cioè si che l'amo del diavolo l'antico avversario attira voi verso di sé e perciò vale poco presso di voi freno o richiamo cioè esempi di un peccato punito come sono quelli che le voci hanno appena espresso e anche richiamo stimoli come quelli che hanno ricevuto i penitenti prima gli esempi del vangelo della storia classica che mostrano come la mancata invidia rende felici e a proposito vi richiamo quest'ultima stupenda terzina che acquista la sua grandezza proprio quando consideriamo che Virgilio non è destinato come invece Dante il mondo cristiano alla salvezza Virgilio dice chiamavi il cielo e intorno vi si gira mostrandovi le sue bellezze etterne e l'occhio vostro pure a terra mira onde vi date chi tutto discerne cioè il cielo vi chiama e gira attorno a voi mostrandovi le bellezze delle stelle le bellezze eterne e tuttavia ciononostante il vostro occhio mortale continua a guardare verso il basso importantissima come al solito la opposizione tra l'alto e il basso anche perché in un canto così pieno di animali come questi secondo la visione medievale noi umani a differenza degli animali camminiamo in due gambe perché abbiamo la testa guardando verso Dio e questo è significativo del destino che ci è preparato che è la salvezza dell'animo mentre invece gli animali guardano verso il basso e quindi Virgilio sta dicendo voi siete chiamati invitati invogliati dalle bellezze del cielo a guardare verso l'alto a desiderare la salvezza dell'anima e tuttavia vi lasciate tentare e guardate verso il basso come animali perciò chi tutto discerne cioè Dio vi punisce vi batte come sono uniti anche i penitenti sentite come suonano in questa terzina che va dal verso 148 al 150 come suona attraverso le sdrucciole attraverso questo ritmo ternario quanto suonano belli i versi 148 149 che riguardano l'invito di Dio a guardare le stelle e come il ritmo binario del verso 150 riprende la malviagità umana chiamavi il cielo intorno vi si gira mostrandovi le sue bellezze etterne e l'occhio vostro pura terra mira come riprende il carattere binario del passo dell'uomo delle due braccia dell'umano e il due in opposizione al ritmo in tre della trinità dico che quest'ultima parte del canto che a me sembra tra le più belle del poema acquista la sua grandezza proprio quando uno è consapevole che Virgilio e non a caso parla in seconda persona del plurale non dice chiamaci in cielo mostrandoci e intorno ci si gira dice chiamavi chiama voi voi cristiani che avete avuto la fortuna di essere nati dopo Cristo e potete ambire alle stelle Virgilio ineccepibile che ha guardato verso l'alto perché è stato virtuoso non potrà mai raggiungere invece le stelle vedete il contrasto eh tra il personaggio pagano ineccepibile che è stato Virgilio e la corruzione dell'attualità di Dante qualche domanda io ti ringrazio ehm ti ti ringrazio tanto ma devo partire so ehm eh sta pronto si riempie arrivederci ci salutiamo allora prima di leggere così ce ne andiamo eh in vacanza eh con le parole di Dante eh ringrazio io voi della vostra compagnia in questa prima parte dell'anno attraverso l'Etere che è un modo di stare insieme un po' particolare ma che è meglio di niente eh ci salutiamo dunque fino al primo giovedì di agosto eh buona pausa infernale riposatevi cercate di star bene di circondarvi di bellezza nonostante eh il periodo duro che ci è toccato di vivere grazie certo tante grazie prendete è un imperativo no no dove dove prendete alla fine ma voi prendete come una una ordine no dove voi prendete eh ah prendete l'esca no no non è un ordine è indicativo 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 è presente indicativo è lo stesso prendete indicativo eh sì come forma morfologicamente o morfologicamente sì però però si capisce eh si capisce che è indicativo eh anche perché poi c'è a sevitira che chiaramente è quello che fa il diavolo grazie è il Conde Ugolino il Conde Ugolino è Conde in una romanza habla di Conde il Conte Ugolino sì il Conde dopo ti scrivo ah va bene non so perché me lo sta dicendo io l'ho nominato a causa di a causa no perché o Ugolini dice non dice Conde no no ma non è questo non è il Conte Ugolino no 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 Ugolino è un diminutivo di Ugo molto il Medioevo no il Conte Ugolino non sarebbe mai un esempio è per terribile traditure che abbiamo visto nel canto trentatresimo dell'inferno ah grazie grazie prego bene allora vi leggiamo il canto e ci salutiamo fino ad agosto chi è costui che il nostro monte cerchia prima che morte gli abbia dato il volo e apre gli occhi a sua voglia e coberchia non so chi sia ma so che non è solo domanda il tuo che più gli sta vicino e tulcemente sì che parli a colo così due spiriti l'uno all'altro ragionavano di me ragionavano di me e poi farli visi per dirmi e disse l'uno oh anima che fitta nel corpo ancora in verlo celte vai per carità ne consule ne ditta onde vieni e chi sei che tu ne fai tanto maravigliare della tua grazia quanto qualcosa che non fu più mai e io per mezza toscana si spazia un fiumicel che nasce in falterona e centomiglia di corso non sazia di sovressore che io questa persona dirvi chi il sia sarei a parlare in d'arno e il nome mio ancora molto non suona se ben l'intendimento tuo a carlo con l'intelletto allora mi rispose quei che diceva pria tu parli d'arno e l'altro disse lui perché nascose questo il vocabol di quella riviera pur com'on fa dell'orribile cose e l'ombra che di sciodo mandata era si sdevitò così non so ma degno bene che il nome di Tartal che dal principio suo vessi pregno l'alpestro monte un detronco che loro che in pochi luoghi passa oltre quel segno in fin nave si rende per ristoro di quel che il cielo della marina asciuga o danno i fiumi e ciò che va con loro vertù così per nemica si fuga da tutti come biscia o per sventura dell'uovo o per maluso che li fruga o un danno si mutata l'ornatura agli abitatori della misera valle che par che circe le avesse in pastura tra brutti porci più degni di galle che d'altro cibo fatto di manuso dirizza prima il suo povero galle voto li trova poi venendo giuso ringhiusi più che non chiede l'or possa e da lor disdegnosa torci l'uso vassi cagendo e quant'è la più grossa tanto più trova di camparsi lupi la maledetta e sventurata fossa discesa poi per più pelaghi pupi troppa le volpe si piene di froda che non temo l'ingegno che le occupi ne lascerò di dir per c'altri moda e buon sarà costui s'ancor s'ammenta di ciò che vero spirito mi dismoda io veggio tua nepote che diventa cacciatore di quei lupi sulla riva del fiero fiume tutti li sgomenta vende la carne loro essendo viva poscia li ancide come antica velva molti di litra e se di pregio priva sanguinoso esce della trista selva lascia la tal che di cui a mille anni nello stato primaio non si rinferra come all'annunzio di vogliosi danni si curva il viso di colui che ascolta da qualche parte il periglio la sanni così vidio l'altra anima che volta stava a udir curvarsi e farsi trista poiché bella parola se racconta lo dir dell'una e dell'altra la vista mi fer voglioso di saper loro nomi e di mandane fei o prie di mista perché lo spirito che di pria parlò mi ricominciò tu vuoi che io mi deduca nel fare a te ciò che tu far non vuoi ma da che Dio in te vuoi che tra Luca tanto sua grazia non ti sarò scarso però sappi siazzo che se veduto avesse buon farsi lieto visto ma avresti di livore spazio di mia semente cotal paglia mieto o gente umana perché poni il core la del mestier di consorte di lieto questi eriniere questi il pregio e l'onore della casa da calvo di ove nullo fatto sare da poi del suo valore e non pur lo suo sangue fatto brullo tra il po e il monte la marina e il reno del ben richiesto al vero e al trastullo che dentro a questi termini è ripieno di venenosi sterbi sicché tardi per coltivare o mai verrebbero meno ovei il buon Lizio e Enrico Mainardi per traversare guido di Carpigna o Romagnoli tornati in bastardi quando in Bologna un fabbro si raligna quando in Bernardini di Fosco Verda Gentilli Piccola Gramigna non ti maravigliarsi o piango tosco quando rimembro con Guido da Prata Ugolindazzo che vivete nosco Federico Tignoso e sua brigata la casa attraversare gli anastaggi e l'una gente l'altra è diretata le donne cavalier gli affanni e gli agi che ne invogliava amore cortesia là dove i cuori son Pobre Pinoro che non fuggi via poiché gita se nella tua famiglia e molta gente per non esser ria ben fa bagnacavalle che non rifiglia e mal fa castro caro e peggior corio che di figliar tai punti più si impiglia ben faranno i pagani da che il demonio non sengirà ma non però che puro giammai rimagno avessi testimoni oh golin dei fantolin sicuro è il nome tuo da che più non s'aspetta chi farlo possa tralignando scuro ma va via tosco mai più or mi rimetta troppo di piangere più che di parlare si ma nostra ragion la mente stretta noi sapavamo che quell'anime care ci sentivano andar però tacendo facea noi del cammin confidare poi fummo fatti soli procedendo folgo riparve quando l'aere fende voce che giunse di contradicendo anciderammi qualunque m'apprende e fuggì come tuon che si dilegua se subito la nuvola scoscende come da lei lud il nostro ebbe triegua ed ecco l'altra con si gran fracasso che somigliò a tonar che tosto segua io sono aglauro che divenni sasso e allora per ristringermi al poeta in destro fece non innanzi in passo già era Laura ad ogni parte poeta ed mi disse quel fu il duro camo che dovrei allontenere dentro a sua meta ma voi prendete l'esca sicché l'amo dell'antico avversario asseguitira e però poco va al freno o richiamo chiamavi il cielo intorno vi si gira mostrandovi le sue bellezze etterne e l'occhio vostro pura terra nera onde vi batte chi tutto discerne grazie arrivederci e buone vacanze grazie Grazie.